Durante il look down sicuramente avrete sentito parlare numerose volte di applicativi tipo TeamChat Sicuramente tra questi avrete sentito anche uno dei più famosi, che è proprio quello sviluppato da casa Microsoft, che è Teams E proprio perché in questo periodo si è sentita la necessità di dover avere un applicativo magari aziendale Per poter gestire le comunicazioni tra collaboratori, dipendenti, comunque diciamo tra professionisti In realtà questa è una necessità che esiste da sempre, quindi con l'unica differenza che prima si cercava di utilizzare magari applicativi più standard Più ad uso magari personale tipo Whatsapp, Telegram eccetera Quindi non c'era una netta distinzione tra un applicativo aziendale di comunicazione parlo ovviamente E un applicativo diciamo personale, uso anche domestico Perché vi sto dicendo questo? Perché oggi voglio parlarvi di Mattermost Cos'è Mattermost? Mattermost è un applicativo di TeamChat Quindi è un applicativo pensato per mettere in comunicazione un team in ambito aziendale In modo da dividere proprio in maniera radicale le abitudini diciamo personali Quindi che può essere la classica chat di Whatsapp Con un applicativo business Un applicativo diciamo di aziendale Si può installare anche in NetServer Oggi vi farò vedere l'installazione in NetServer Per chi non sapesse cos'è NetServer ho fatto un video dedicato Ve lo lascio qui sopra Perché ve lo faccio vedere in NetServer? Perché è molto molto semplice andarlo ad installare Andiamo quindi nella nostra macchina E andremo nei vari applicativi e vedremo che avremo come possibilità di scelta L'installazione del pacchetto di Mattermost direttamente nel software center di NetServer Quindi entriamo Andiamo a cercare nell'elenco per l'appunto Mattermost Lo andiamo a selezionare eccolo qua E clicchiamo su aggiungi add Ok ora il sistema installerà tutti i pacchetti necessari per far funzionare l'applicativo Una volta terminata l'installazione lo troveremo sia in applicazioni che nel menu qua Ok ora che l'installazione è terminata Aggiorniamo la nostra pagina E a questo punto troveremo un menu in più Chiamato per l'appunto TeamChat Se andiamo qua andiamo a abilitare quindi la nostra installazione di Mattermost E come vedete io ho messo qui Mattermost.izuki.com Perché ho dedicato ovviamente un sottodominio alla mia installazione In modo che sia molto più semplice raggiungerla da esterno Da cliccato poi su submit Andiamo ad aprire quindi il nostro dominio Ok e ci verrà richieste alcune informazioni Quindi l'email Mettiamo un'email Mettiamo un nome utente E mettiamo una password Ovviamente questo sarà quindi l'amministratore di sistema A questo punto ci viene chiesto di creare un team Andiamo a creare quindi un team Lo chiamo Aizuki Team Ok andiamo avanti Mi chiede se voglio personalizzare l'URL del team per aggiungerlo esternamente Lo lascio di default E mi trovo nella schermata iniziale di Mattermost Ok praticamente è strutturato in questa maniera La prima cosa da fare è sicuramente impostarlo in italiano Quindi andiamo qua nel menu Andiamo a fare account settings Andiamo in display e qui troveremo la lingua Quindi language Andiamo a selezionare italiano Salviamo e vedrete che l'interfaccia si aggiornerà in italiano Qui ci sono varie impostazioni Nome completo, il nome utente, soprannome, eccetera Sicurezza, eccetera Detto questo L'interfaccia è molto simile a un applicativo in realtà di chat A cui siamo abituati Abbiamo qua in alto a sinistra La possibilità di caricare un'immagine del profilo Di impostare uno stato E sotto troviamo direttamente dei canali pubblici Dei canali privati O dei messaggi diretti Allora, come facciamo innanzitutto a creare Aggiungere utenti Andiamo a cliccare sul menu E possiamo cliccare su invita persone Ok, ci verrà assegnato un URL di invito Che noi possiamo copiare Quindi inviare per email, eccetera A chi vogliamo E praticamente Aprendo questo URL che inviamo per email Chiunque ha la possibilità di registrarsi Alla nostra istanza di Mattermost Ok, quindi è una procedura di registrazione Simile a quella che ho fatto io prima Una volta registrati gli utenti Quindi se noi ritorniamo nel menu Andiamo in console di sistema E andiamo in utenti Troveremo l'elenco degli utenti registrati In questa installazione Questa console di sistema Ci permette di Permette all'amministratore di sistema Di modificare varie impostazioni Come, non so, il server SMTP Per inviare eventuali notifiche email Alla ricezione di un messaggio La personalizzazione del server web Della porta di utilizzo Della sicurezza Se vogliamo caricare un certificato esterno O utilizzare Let's Encrypt Ma in questo caso noi l'abbiamo installato Su un net server Quindi basterebbe Impostare un certificato Let's Encrypt Direttamente in net server L'ho spiegato nell'altro video Se avete bisogno Di vedere praticamente Come configurare un account Un Scusate, un certificato Let's Encrypt In net server Scrivetemelo nei commenti Così vi farò un video dedicato Il server di notifiche push Nel caso dell'edizione Di questa edizione qua Perché stiamo parlando Di l'edizione Community Cosa c'è di differente Dall'edizione Enterprise Che non abbiamo Un Un server di notifica dedicato Non abbiamo un canale Di supporto dedicato E varie Varie cose che poi Comunque andate sul sito Mattermost E' tutto spiegato da lì Dicevo Il server di notifiche push E' free Funziona bene Perché non mi ha dato mai problemi Quindi andate tranquilli Abbiamo la possibilità Via di fare Determinate personalizzazioni Detto questo Ritorniamo un attimo All'interfaccia normale Quindi ripassiamo Al team Funziona così Voi avete dei canali pubblici I canali pubblici Sono accessibili da chiunque Ok Infatti se andate a fare più E andate a aggiungere Un nuovo canale Vi chiede se volete crearlo pubblico Quindi Chiunque può entrare in quel canale O se volete farlo privato In cui solo i membri Che hanno ricevuto L'invito L'invito che abbiamo visto prima Possono accedere Quindi vi consiglio Vivamente Utilizzare sempre I canali privati Facciamo un esempio Io vado a creare Esatto Un canale Chiamato Bacheca annunci Ok Questo canale Metterò un titolo Mettiamo che sia Comunicazioni Comunicazioni Generali Quindi praticamente Il titolo Apparirà qui sotto Lo posso andare a modificare Cliccando su Bacheca E cliccando su Modifica titolo Canale E praticamente È un po' Una sorta di sintesi Dell'utilizzo del canale No? Quindi abbiamo creato Questo canale Ed è un canale privato A questo punto Io amministratore Dovrò andare a dirgli Chi deve farne parte No? Quindi andrò a cliccare qui Farò aggiungi membri E andrò a selezionare I vari utenti Che si saranno Registrati Ok? Tramite l'url D'invito Che abbiamo visto prima Quindi solo Chi decido io Può andare a vedere Questo canale Ho fatto l'esempio Di Bacheca annunci Perché? Perché mi immagino Che in un'azienda In tutte le aziende Ci sia un modo No? Per comunicare Eventuali Che ne so Domani è un giorno festivo Non si lavora Mattermost Potrebbe essere Un metodo Eccezionale Per comunicare Questa cosa Che ne so Personalizzarlo In base al settore Quindi facciamo Segreteria Segreteria Metterò nel gruppo Segreteria Solo gli utenti Che faranno parte Della segreteria Oppure che ne so Un altro canale Chiamato Logistica E aggiungerò Quindi gli utenti Solo al gruppo Logistica In modo che possano Interagire tra di loro Se vogliamo invece inviare Dei messaggi diretti E degli utenti Andiamo direttamente In messaggi diretti Premiamo il più Andiamo a inserire Un utente Allora guardate C'è di default Un survey bot Che non è altro che un bot Che fa dei sondaggi Utilizzo questo In modo da farvi vedere Direttamente Senza che mi metto a registrare Un utente Quindi seleziono L'utente Uno o più di uno Se voglio creare Un altro gruppo Ma ha poco senso Seleziono l'utente Faccio vai Lui me lo aggiunge In elenco Vedete Se io vado a scrivere qua Io sto scrivendo In realtà Un messaggio All'utente Ora Essendo un bot Mi dice Se voglio mandare Un feedback No Ma altrimenti Sarebbe partito Direttamente il messaggio L'avrei visto qui In elenco Guarda Creiamo un utente Forse E' più semplice Facciamo copia Andiamo su una pagina In incognito Perché sono già Loggato Andiamo a creare Un altro indirizzo Quindi user2 Chiocciola Aizuki Punto com Aizuki No Facciamo utente2 Facciamo una password Ok Crea account Questo è quello Che essenzialmente Faranno Vedete Io Non trovo i canali Vedete Allora Io metto icona Sono l'amministratore Chiudiamo Aggiungo al gruppo Logistica L'utente Che ho appena creato Quindi faccio aggiungi membri Vedete Trovo già l'utente2 Lo vado ad aggiungere E' stato aggiunto al canale Se ritorniamo Nella pagina Dell'utente Vedete E' apparso il canale Logistica Se andiamo nei messaggi diretti Vado a fare più Troverò a questo punto L'utente2 Se lo vado ad aggiungere Potrò scrivere in chat Uno a uno Direttamente a lui Sentite la notifica Quindi Lui avrà ricevuto Il messaggio Vedete E gli segnala Uno Come un nuovo messaggio Proprio come una chat Ok Detto questo Qual è il bello? Il bello che potete Uno Passare Allegati Il limite degli allegati Lo potete leggere Dalla console di sistema Andate in archiviazione Andate in archiviazione file Dimensione massima file Vedete Ho messo 50 MB Potrei mettere Tranquillamente Una dimensione maggiore Mi dice Dove voglio memorizzarli Se localmente O addirittura Su un account Direttamente di Amazon S3 Ho preso intenzione di utilizzare Mattermost Per passare allegati Di grandi dimensioni E posso Oltre ad allegare Dei file Posso citare Ad esempio Degli utenti Per cui Se vado su un canale E faccio Chiocciola Posso andare a citare Un utente O tutti Se voglio Quindi se faccio Chiocciola all Vado a scrivere un messaggio Nell'applicazione mobile Perché c'è un'applicazione mobile Installabile Su Yeso Android Che è iOS Non riceverete Non so se avete presente I numeri presenti Sopra le icone dell'app Faccio per esempio Su iOS Nelle applicazioni C'è un numero sopra Se io scrivessi Solo nel canale logistica Un messaggio Il messaggio Questo messaggio Prova Arriverebbe Come notifica Ma non verrebbe Segnalato Come numero Di notifica aggiuntiva Se faccio Chiocciola Invece Viene segnalato Posso fare Chiocciola all Ovviamente Chiocciola utente Ok E scrivo Oltre questo Posso andare A fare una ricerca Quindi posso cercare Qua Non so Prova Vedete Mi fa vedere L'elenco Dei messaggi Presenti Se vado a cliccare Sopra Allora Me lo vado a evidenziare Nella chat Immaginate Di avere una chat Gigante Capita spesso Di andare a cercare Dei messaggi Precedenti Per esempio Su WhatsApp Sarebbe praticamente Impossibile Sì c'è una ricerca Ma è lentissima È improponibile Andarla a cercare Oltre questo Ci sono Un miliardo Comunque Di funzionalità Quindi citazioni Posso pinnare Di messaggi Renderli importanti Però non vi voglio annoiare Perché poi Perdendoci tempo Utilizzandolo Un po' Vedrete che è molto Molto intuitivo Se andate nel sito Mattermost Mattermost Ok Eccolo qua Qui trovate Praticamente Nella sezione Download Se andate in Download Mattermost Trovate tutte Le versioni Dell'applicazione Perché ora Io lo sto utilizzando Direttamente Andando sul sito Però è comodo Magari avere Il client installato In Windows E Linux In macOS Per ricevere Quindi notifica In tempo reale Alla ricezione Di un messaggio Oppure se vogliamo Si trovano anche Per Android E di OS Nelle piattaforme Mobile L'unica cosa Che vi verrà richiesta È il nome del server Ma potete mettere Un nome che volete E l'URL Quindi dovete andare A specificare Questo indirizzo Spero che questo video Vi sia piaciuto O se vi è piaciuto Mettete un like Se volete saperne di più Volete approfondire L'argomento O c'è L'avete provato O c'è qualcosa Che non avete capito Fatemelo sapere Nei commenti Sarò lieto Di farvi un video O spiegarvi Più nel dettaglio Se il video Ti è piaciuto Metti un mi piace Se non ti è piaciuto Metti un non mi piace Mi raccomando Iscriviti al canale E attiva la campanella Ciao Alla prossima